Ciao, sono Valentina, sono l'admin del gruppo Oretec Roma Ardiatino, ci troviamo qui a Parco Scott. Grazie alle vostre donazioni verrà acquistato un tasa erba e potremo continuare a prenderci cura di questo luogo, assicurandoci che resti un luogo di aggregazione del quartiere e di svago per i più piccoli. Io vi ringrazio di cuore, ci vediamo presto, ciao!